Mi chiamo Carlo Suraci e sono titolare della concessionaria Camion Service di Villa San Giovanni Reggio Calabria. L'azienda è attrata a far parte della famiglia Volvo nel 1999. I clienti sono al centro della nostra azienda e vengono trattati al meglio. Molto semplicemente cerco di mettermi nei loro panni. La forma di contatto che prediligo è l'incontro di persona perché il contatto diretto è molto più completo. Per ovvia ragione di tempo questo non sempre è possibile, quindi spesso opto per la telefonata. Utilizziamo tantissimo anche WhatsApp perché è una forma molto rapida ed efficace e per le questioni più formali invece scegliamo di utilizzare l'email. Con il cliente è di fondamentale importanza innanzitutto essere sempre presente e facilmente reperibile. Bisogna sapere ascoltare il cliente, imparare da ciò che gli ci dice e individuare le sue esigenze. Dopodiché non resta che soddisfarla al meglio. Non sempre quello che vuole un cliente coincide con quello di cui ha bisogno. Per questo preferisco avere un approccio più da consulente che da venditore. Le informazioni relative ai reclami sono condivise all'interno dell'azienda, così che ognuno di noi possa mettere in atto le dovute azioni correttive. Da un reclamo ben gestito può nascere un aumento di soddisfazione da parte del cliente. Dialogare costantemente con i clienti ci aiuta a essere sempre aggiornati sul mercato e sui suoi mutamenti. Ritengo la formazione molto importante, così come l'esperienza. Sono due elementi imprescindibili l'uno dall'altro. Danno le giuste competenze per approcciarsi nella maniera corretta al mercato e avere una adeguata conoscenza dei clienti. Facilità di contatto, soddisfare le esigenze del cliente.